Buon pomeriggio e bentrovati al terzo appuntamento quotidiano con le web stories di Energy Week 2021. Siamo qui questo pomeriggio con Schneider Electric, main sponsor di questa edizione dell'evento, in particolar modo con Giorgia Montoro e Ene Amidi, che ringrazio per la disponibilità e per il contributo che ci porteranno tra qualche istante. Con loro vedremo gli step necessari per diventare una smart factory sostenibile. Prima di lasciare parola alle nostre relatrici vi ricordo che la chat è a disposizione per domande e considerazioni che saranno poi condivise con Giorgia Ene al termine della presentazione. Grazie per essere qui con noi anche questo pomeriggio, lascio dunque parola a Giorgia Montoro. Quindi diciamo i Schneider e vorremmo portare quelli che sono i temi di efficienza energetica e di sostenibilità che oggi sono sempre più centrali. Centrali perché? Perché sicuramente come molti di voi sapranno stiamo vivendo una vera e propria rivoluzione. È un momento di transizione come ce ne sono stati altri in passato ma questo è veramente preponderante. Dagli ultimi anni si sente sempre parlare di transizione energetica, transizione digitale. Non sempre si è veramente consapevole di ciò che si dice. Noi i Schneider cerchiamo di focalizzarci su questi due temi. Transizione energetica perché veramente con l'ingresso delle energie alternative e delle energie sostenibili e una maggiore attenzione a quelle che sono le risorse naturali sta trasformando sia la rete elettrica ma non solo il modo di utilizzare questa energia. E poi anche l'avvento del digitale ci sta veramente cambiando il modo di rapportarci col mondo. Anche il fatto di essere qui live non in presenza è diciamo testimonianza di questa trasformazione digitale in atto. Questa rivoluzione è secondo noi, secondo Schneider è guidata da una parola chiave che è appunto efficienza. Efficienza che quindi traduciamo in energetica e in processo. Oggi ci soffermeremo sulla parte energetica che per noi significa intanto risparmio di energie primarie, elettrificazione, sappiamo benissimo che il mondo diventa sempre più elettrico, vedi autoelettriche eccetera eccetera, ma soprattutto attenzione alla decarbonizzazione. Da qui la parola chiave che è sostenibilità. Sulla parte di processo ci soffermeremo un'altra volta ma sappiate che ai Schneider abbiamo anche questo filone qui. Andando avanti chi è Schneider Electric, alcuni di voi la conosceranno già, però vi voglio dire il perché di Schneider Electric, cioè cosa ci muove, cosa ci fa alzare ogni mattina e lavorare. Il nostro obiettivo è quello di consentire a tutti, e quando leggete tutti per noi significa tutto il globo, di sfruttare al meglio l'energia e le risorse, con un grande progresso e sostenibilità come dicevamo prima. Questo per noi si traduce in un motto abbastanza semplice che è il nostro mantra che è Life is on, cioè la vita è on, è accesa. Quindi cerchiamo di portare energia laddove non c'è e di sfruttarla al meglio dove è già presente. Come lo facciamo? Lo facciamo grazie a una presenza molto diffusa su tutto il mondo. Come potete vedere dal grafico siamo più di 135 mila dipendenti in tutto il mondo, con un fatturato e una presenza globale abbastanza bilanciata nei vari paesi. Come potete vedere tra Nord America, Europa, Asia e anche nel resto del mondo, la percentuale di fatturato Schneider è abbastanza equilibrato. Ma quello che ci piace sempre sottolineare sono due dati che vedete in questo slide. Il 5% di fatturato investito in ricerca e sviluppo che ci permette appunto di portare avanti tutti quei nuovi progetti, quelle nuove soluzioni che riguardano il mondo delle nuove economie. Da qui anche poi il secondo numero molto importante per noi che è il 41% di fatturato nelle nuove economie. Questo diciamo ci dà da un lato una conferma dell'impegno che abbiamo verso i temi di cui parliamo, ma soprattutto che ci viene anche riconosciuto il valore delle soluzioni che portiamo. Andandoci a focalizzare invece sull'Italia, in Italia Schneider è una presenza fortemente radicata nel territorio. Alcuni di voi magari che si ricordano la vecchia Magrini Galileo, ecco, è l'antenato di Schneider. Infatti il nostro headquarter è tuttora a Stezzano, la vecchia sede della Magrini. In Italia abbiamo una presenza molto forte, siamo più di 3.000 dipendenti con una presenza su tutto il territorio, sia con le aree commerciali, abbiamo 8 aree commerciali in tutta Italia che sono i pallini blu che vedete nell'immagine, ma soprattutto siamo molto presenti anche a livello di produzione. Abbiamo 6 siti industriali in Italia che forniscono in parte, 5 di questi, anche prodotti per tutto il globo. Quindi il paese Italia ha preso una idea molto importante. A questo negli ultimi anni si sono aggiunti 3 innovation hub, dove sono effettivamente dei luoghi delle fabbriche 4.0. Uno di queste, che appunto è lo stabilimento di Stezzano, sarà oggetto della discussione tra poco con Enei, che vi mostrerà il nostro caso di successo. Poi abbiamo un centro di smistamento unico logistico per tutta Italia, che è la stessa sede del nostro pronto contatto. Quindi tutte le richieste arrivano in un unico centro situato in Italia. Però come si posiziona Snyder all'interno del mercato? Snyder viene riconosciuta a livello globale come specialista nella gestione dell'energia e nell'automazione industriale. Quindi, per chiarirci e per essere più concreti, ci poniamo a metà tra chi produce e trasmette l'energia, le grandi centrali più, diciamo, solare, eolico e idrico, piuttosto che quelle tradizionali, e poi chi effettivamente utilizza queste energie, che può essere un'industria, un'azienda, un data center o comunque tutto il mondo residenziale. Questo come lo facciamo? Noi ci siamo specialisti nel rendere l'energia sicuramente sicura, connessa ed efficiente, che sono appunto i nostri obiettivi. Come lo facciamo? Lo facciamo con questa piattaforma digitale, che chiamiamo EcoStruxure, perché ricorda appunto un ecosistema, un'ecostruttura che ci permette di appunto rendere l'energia, come vi dicevo, sostenibile, sicura ed efficiente. Una soluzione, una piattaforma digitale, che come vedete qui nell'immagine, si basa su tre livelli. Tre livelli che sono ovviamente legati tra loro in modo verticale, ma che sono trasversali a qualsiasi ambiente. Questi tre livelli partono appunto da una parte hardware, che sono i prodotti connessi. Da diversi anni ormai in Snyder produciamo e vendiamo ai nostri clienti solo prodotti inattivamente digitali, cioè che sono in grado di comunicare già così come escono dalla fabbrica, senza bisogno di ulteriori componenti. Questi prodotti sono connessi perché appunto è fondamentale sempre di più la raccolta dei dati, le informazioni. Queste informazioni che dal campo vengono poi mandate al secondo livello, quello che qui vedete Edge Control, che fa un po' da concentratore, perché è vero che dalle mie linee, dalla mia distribuzione elettrica posso raccogliere tantissime informazioni, ma poi le devo concentrare da qualche parte. Il terzo livello invece è quello delle app degli analytics e dei servizi, che prendono tutti questi dati che io ho accumulato e che in parte posso già utilizzare, ma li rendono disponibili a un livello superiore già ordinati con un certo criterio, perché spesso una delle difficoltà che si incontrano con i big data è la capacità di analizzarli, perché è vero che ho delle informazioni, ma devo poi saper trarre e commutarle in azioni, questi dati che ho. Quindi con questo terzo livello siamo in grado anche di aiutare i nostri clienti ad avere delle soluzioni e un'interpretazione a quei dati che ho raccolto dal campo. Questo è trasversale appunto, come dicevo, su diversi settori, la nostra piattaforma la possiamo applicare a un mondo degli edifici, dei data center, mondo industriale e anche al mondo delle infrastrutture, ognuno poi con una sua specificità. Andando avanti, perché Snyder parla di sostenibilità e quali sono gli obiettivi che ha Snyder? Bene, a differenza di quelle che sono le linee guida delle Nazioni Unite, Snyder si è posta degli obiettivi a lungo termine, ma non così tanto lungo, perché sebbene le Nazioni Unite danno come termine ultimo il 2030, Snyder ha deciso di raggiungere quegli stessi obiettivi cinque anni prima, nel 2025. Obiettivi che, come potete vedere qui, sono trasversali, sia da un punto di vista prettamente, diciamo, industriale, o comunque quello che riguarda il nostro core business, ma anche degli obiettivi sociali. Abbiamo appunto obiettivi per creare pari opportunità, per l'inserimento delle nuove generazioni, per il potenziamento delle comunità locali. Però oggi vorremmo soffermarci un po' di più su quello che magari può essere un tema più di vostro interesse, è quello come essere sostenibile, quindi agire a vantaggio del clima, col tema fondamentale della decarbonizzazione, dell'impatto che hanno le aziende, e quello nell'essere efficienti nell'utilizzo delle risorse. In questo caso ci viene in soccorso la digitalizzazione, quindi quei dati di cui parlavamo prima. Nello specifico, gli impegni che Snyder ha per essere più sostenibile, hanno sì una scadenza nel 2030, ma questo se seguiamo le linee guida delle Nazioni Unite, ma il gruppo vuole andare oltre, vuole arrivare entro il 2050 a essere un'azienda totalmente ecosostenibile, attraverso questi step che vedete qui a distanza di circa 10 anni l'uno dall'altro, per passare dall'essere carbon neutral ad avere completamente una supply chain a zero emissioni, nel senso che ci impegniamo sia con i nostri fornitori, sia a valle con i nostri clienti, ad avere un impatto zero sull'ambiente, con tutti i step intermediari che ovviamente sono necessari, però questo per farvi capire come effettivamente questo impegno di essere sostenibili non è solo, fatemi passare il termine a livello marketing, ma ci crediamo veramente al tal punto di andare a rivoluzionare la nostra catena di fornitura. Sempre ritornando al perché Snyder parla di sostenibilità, quale titolo ha? Bene, a noi ci piace dire che il nostro contributo è unico, perché agiamo su entrambi i fronti alla sostenibilità, per il disorso che facevo prima. Siamo noi stessi i primi a dare un esempio di sostenibilità, infatti il caso che vi presenteremo dopo con Enè della nostra fabbrica di Strezzano, ma anche la sede di Euroterm, che è una consorciata del gruppo, sono delle sedi a impatto zero di enidride carbonica, quindi siamo noi stessi i primi clienti dell'azienda, quindi solo dopo essere esempio possiamo vendere queste soluzioni e accompagnare i nostri clienti a essere sostenibili. Cosa che già facciamo da anni con, diciamo, discreto successo, tant'è che possiamo raccontare diverse storie dei nostri clienti che potete trovare anche, sia sul nostro sito, ma anche sul canale YouTube, quella da vogliate approfondire. E questo ci ha permesso di avere un importante riconoscimento dal Corporate Knights, che è quello dell'azienda più sostenibile del mondo. Giuro che non sono dati fasulli, potete anche andare a controllare. Diciamo, è un riconoscimento che ci fa dire ok, l'impegno che abbiamo preso sì è grande, però ci crediamo e stiamo facendo delle azioni concrete. Quindi questa mia introduzione era un po' per farvi capire chi è Snyder, perché oggi è qui a parlare di sostenibilità e che credibilità abbiamo nel farlo. Adesso appunto con la collega Enevi faremo vedere il nostro caso di successo della nostra sede produttiva di Sezzano, di come abbiamo raggiunto gli step che abbiamo fatto per essere una smart factory. Passo la parola a lei e ci risentiamo dopo per le domande. Grazie, grazie mille Giorgia. Come ha ben anticipato Giorgia, sicuramente cerchiamo di essere appunto il partner digitale per l'efficienza e la sostenibilità dei nostri clienti, dei nostri partner, ma cerchiamo anche, come dire, di proporre le soluzioni imparando anche da quella che è proprio la nostra esperienza, rendendoci proprio testimoni noi stessi della nostra un po' storia, della nostra proposta. Ecco perché appunto a partire proprio dal 2016 abbiamo iniziato un processo di digitalizzazione all'interno appunto del nostro stabilimento di Sezzano. Di fatto appunto i trend della digitalizzazione, come ha anticipato Giorgia, stanno rivoluzionando un po' i diversi asset industriali su questi tre, come dire, concetti chiave, cioè l'aspetto della produzione, l'aspetto ovviamente dei prodotti a partire proprio dal confezionamento, così come anche la tracciatura lungo la filiera e sicuramente anche la digitalizzazione e l'efficientamento in materia appunto energia. Noi appunto dal 2016, come dire, la digitalizzazione è stata divenuta la protagonista all'interno appunto del nostro stabilimento di Sezzano, che vedete un po' racchiuso in due, in questa immagine, distinto in due dipartimenti. Quindi quella che è la nostra vera e propria smart factory, che è il nostro stabilimento di produzione e stampaggio classico per prodotti quindi di bassa tensione e distribuzione finale, e poi lo stabilimento di produzione di prodotti di media tensione. Proprio a partire dal 2016 noi abbiamo voluto, come dire, contribuire a questo concetto quindi di digitalizzazione andando a coinvolgere anche quelli che sono insomma sensibilizzando anche i nostri preparatori, che sono circa 300 e all'interno appunto del nostro stabilimento garantiscono oltre insomma 7 milioni di pezzi l'anno, quindi rispondendo anche a 1500 linee di ordini al giorno e producendo più di 1000 referenze attive all'interno appunto del nostro catalogo. Catalogo che come vi dicevo quindi nella parte di impianto di bassa tensione copre tutto il mondo residenziale, quindi domestico e industriale per quello che è il mondo di centralini e dei quadri di distribuzione finale, nonché anche tutto quello che è il mondo quindi delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici, sino poi a tutta la parte di assemblaggio di prese spine industriali. La nostra trasformazione digitale ovviamente è come ogni cambiamento, come dire, è ogni nuovo paradigma parte in un processo abbastanza insomma diversificato andando poi a lavorare sulle diverse implementazioni. Noi oggetto di discussione di oggi sarà sicuramente la parte di efficientamento energetico, però come vedete un po' da queste timeline, dal 2016 abbiamo integrato una serie di come dire soluzioni abilitanti, quelle che è l'industria 4.0, quindi da quella che è sia come dire il concetto di gestione e digitalizzazione di processi, nonché anche, come dire, quella che è la sensibilizzazione e il training dei nostri operatori, in modo tale da, come dire, farli familiarizzare sempre di più in maniera, come dire, anticipatoria rispetto a queste soluzioni e nuove tecnologie, ma soprattutto per favorire e garantire sempre quella che è la sicurezza all'interno appunto del nostro stabilimento. Come abbiamo approcciato quindi la nostra digitalizzazione sempre appunto con la nostra architettura digitale, quindi partendo da questo famoso primo livello, quindi quello dei prodotti connessi nativamente quindi, come dire, intelligenti, che comunicano quindi e raccolgono il dato dal campo che ci viene poi trasferito sotto forma di informazioni. Quindi il secondo livello, quello che è appunto dei software, quindi di gestione e di monitoraggio, per essere poi, ecco, analizzati ed essere fruiti per andare, come dire, a mirare un po' le nostre decisioni e ottimizzare quindi quelli che sono i nostri goal di efficientamento energetico. Oggetto di discussione oggi sarà questa domanda, cioè come ottenere efficienza energetica ed essere sostenibili? Come abbiamo noi approcciato questo tipo appunto di obiettivo? Sicuramente abbiamo ragionato riprendendo quella che è la logica, quindi ecostructure, quindi i tre livelli, quindi siamo partiti da un primo livello che è quello appunto dei prodotti connessi e quindi abbiamo, come dire, iniziato proprio dalla fase del connetti. Il connetti perché? Perché è utile? Perché la connettività diventa funzionale per, come dire, collegare i nostri dati di consumo energetico a quelle che sono, per esempio, le singole aree e linee produttive all'interno del nostro stabilimento. Ed effettivamente è quello che abbiamo fatto a partire dal nostro stabilimento di media e tensione, dove abbiamo fatto in un primo step una mappatura di quelle che è la rete elettrica all'interno del nostro stabilimento. E in questo caso, nello stabilimento di media e tensione abbiamo individuato, come dire, tre aree principali. Nella parte invece di bassa tensione siamo andati, come dire, a lavorare un po' più di dettaglio. Abbiamo diversificato ciascuna linea di produzione sia dal dipartimento di stampaggio classico che di assemblaggio di prese spine, quindi industriali, nonché tutta la parte, quindi, di gestione e monitoraggio dell'illuminazione, così come la parte uffici e officina. Come lo abbiamo fatto in una logica, quindi, di, come dire, scalabilità, col famoso primo livello, quindi, il primo livello, appunto, dei prodotti connessi. Abbiamo, come dire, individuato, quindi, quelle aree che abbiamo riconosciuto come critiche e per, come dire, valorizzarne e avere, quindi, consapevolezza del consumo energetico e come questo impattasse, poi, sul consumo totale, abbiamo inserito una serie, quindi, di tecnologie intelligenti, i cosiddetti prodotti connessi, che si traducono in questa architettura che vedete qui di fianco. Quindi, sostanzialmente, siamo partiti da una serie di sensori di monitoraggio wireless, i nostri power tag, abbiamo inserito una serie di strumenti, diciamo, di misura, quindi misuratori di energia, come, per esempio, il PM82002 e poi, tutti questi sensori, come dire, diventavano, quindi, il veicolo di una serie di informazioni che venivano, come dire, collettate e trasmessi localmente in un cloud attraverso un concentratore che è il nostro Comix. Alla fase di, come dire, connettività, ovviamente, dovevamo, quindi, scalare a un livello superiore per avere un livello di dettaglio utile per ottimizzare, appunto, le nostre decisioni e, come dire, mirare un obiettivo di efficienza ben specifico. Per questo motivo, quindi, appariva necessario andare a lavorare non solo sull'architettura, quindi, di distribuzione elettrica, ma anche andando a integrarlo in una logica, anche, di gestione. Quindi, connettività, primo livello, scalabilità a un secondo livello che è dato, quindi, dai nostri software e dalle nostre piattaforme cloud, dove tutte queste, effettivamente, informazioni ci venivano trasmesse. Ovviamente, tutte queste architetture sono state, come dire, anche incentivate e, come dire, fruite maggiormente grazie anche all'accelerazione del momento che stiamo vivendo un po' in questi ultimi anni e soprattutto che vedrà protagonista, diciamo, al prossimo anno 2021-2022, che è quello, appunto, di transizione 4.0. Alla fase del connetti, quindi, abbiamo raccolto, abbiamo connesso il nostro impianto, tutti i nostri asset di distribuzione, siamo poi arrivati a questo livello, cioè quello della misura. Quindi, la misura, perché è utile? Perché dobbiamo misurare un determinato dato? Proprio perché è utile per riuscire a ripartire, quindi orientare i nostri consumi energetici e ammirare quelle che sono le nostre azioni di miglioramento, cioè quelle aree dove effettivamente dobbiamo andare a implementare dei nuovi obiettivi di efficientamento. La fotografia, diciamo, la panoramica, la macrofotografia che ci è apparsa da una prima analisi è questa, cioè che ha un totale del consumo energetico, evidentemente, come vedete, diciamo, abbastanza evidente dal grafico, la parte di stampaggio plastico pesava più o meno il 49%, quindi comunque era quella più fortemente impattante in termini di consumo. Insieme, concorreva quindi insieme alla parte anche, come dire, del dipartimento delle resine che pesava per circa il 24%. A questa prima, quindi, fotografia, quindi del totale del consumo energetico, abbiamo voluto, quindi, come dire, approfondire, zoomare ulteriormente il nostro obiettivo della nostra, diciamo, fotocamera, come dire, per andare a dettagliare ulteriormente il dato sui due dipartimenti, quindi quello di media tensione e di bassa tensione. È venuto fuori questo tipo di dato, cioè che sulla media tensione, effettivamente, che riprendiamo un po' il dato come un elemento concorrente al consumo energetico, era rappresentato proprio dalle resine. Per quanto riguarda, invece, la parte di bassa tensione, questa ci viene rappresentata fondamentalmente, e conferma un po' quel 49% del grafico precedente, viene rappresentata dallo stampaggio plastico. Ecco, quindi individuati i quick win, cioè quelle aree di miglioramento su cui dovevamo effettivamente, in maniera preponderante, insomma, tempestiva, anche con una certa, ecco, reattività, andare a mirare le nostre azioni di implementazione. Abbiamo deciso, quindi, di lavorare principalmente su questa parte, quindi sulla parte di bassa tensione, imprevalentemente, ovviamente, sulla parte di stampaggio plastico. Cosa abbiamo fatto? Quindi questo apre al secondo capitolo della parte di misura, ossia quella di andare a organizzare, quindi, i nostri dati che abbiamo raccolto alle singole unità di processo. Effettivamente è venuto fuori che i nostri consumi energetici, quindi legati a quella parte, quella fetta della nostra torta, legata quindi allo stampaggio plastico, vedeva, come dire, una concorrenza importante tra due parte, tra due unità di processo. Quella, appunto, delle pompe e delle camere calde delle stampanti plastiche, dove venivano, diciamo, rappresentate da un 43 più o meno e un 23%. Per questo motivo, quindi, abbiamo, come dire, individuato già un ulteriore focus su cui andare a implementare la nostra azione di efficientamento. Quindi, macrofotografia, dipartimento e linea produttiva di stampaggio plastico, abbiamo individuato l'unità dello stampaggio plastico di processo più, come dire, impattante in termini di consumo. Questo apre il terzo capitolo, invece, della parte di misura, cioè confrontare e veificare eventuali anomalie e non conformità di sistema attraverso, quindi, come dire, una valorizzazione e una priorizzazione dei consumi in una logica di lettura di trend. Quindi, andare a riuscire a determinare una lettura del nostro consumo su, per esempio, dato mensile, dato settimanale, giornaliero, piuttosto che orario. Questo perché? Perché, effettivamente, se noi pensiamo alla slide precedente, dove fortemente impattanti erano proprio, appunto, la parte di, quindi, di compie delle camere calde, delle stampanti plastiche, effettivamente abbiamo visto come, facendo una valorizzazione, una verifica, su due stampanti plastiche, che avevano uno stesso tipo di impegno, come dire, produttivo in termini proprio di volume e di utilizzo, quindi, allo stesso periodo, quindi, di intervallo di tempo, una delle due aveva, effettivamente, un picco di consumo energetico non giustificabile, visto che comunque sia, lavoravano allo stesso fascio orario, quindi abbiamo indagato alla stessa fascio orario, avevano un effort produttivo uguale, da lì, quindi, siamo riusciti a fare un tipo di confronto. E cos'è avvenuto fuori? È avvenuto fuori, effettivamente, che una delle nostre stampanti avesse un'anomalia, cioè che una delle camere calde, che solitamente lavora ad una, come dire, temperatura che varia tra i 120 gradi di dove si dovesse, insomma, stampare e lavorare il polistirolo e 400 gradi di dove, invece, si dovesse lavorare il policarbonato, bene, questa era rimasta, quindi, in blocco a una temperatura di 600 gradi. Quindi, da lì abbiamo capito che effettivamente qualcosa, insomma, non andava. Cioè, siamo riusciti, no, a determinare quel tipo di adomalia proprio grazie a questo concetto della misura. Perché in termini di, come dire, qualità di prodotto che veniva poi effettivamente, diciamo, creato, non veniva, diciamo, inficiata quella che era la qualità, ma quindi, come dire, non se ne era avuta, ecco, percezione in termini di produzione, proprio di output finale, ma piuttosto questo tipo di consapevolezza l'abbiamo avuto grazie poi a un confronto e una verifica sui vari intervalli di tempo, sulle diverse linee di produzione, di stampaggio. Un altro capitolo della misura è stato quello che è utile per conoscere quello che è, diciamo, l'impatto del consumo energetico sul costo prodotto. Cioè, fondamentalmente, ogni referenza, ok, quanto mi costa in termini energetici. Quindi, sicuramente, abbiamo fatto un'analisi, una macrofoto su quello che è il costo del prodotto ed è venuto fuori che sicuramente la parte più importante è, senza dubbio, la parte di, ovviamente, materia prima. Però, comunque sia, una fetta utile anche di particolare interesse è rappresentata da questo 1%, legato a quello che è il consumo energetico, legato alla produzione di scarti, perché evidentemente ogni scarto, ogni prodotto scartato deve essere, come dire, riprodotto e quindi un ulteriore consumo energetico. Questa, diciamo, analisi, tutti questi dati, come dire, questi semafori che vi ho fino ad ora un po' proposto, ci hanno aperto un po' lo spazio, poi, a quella che è la terza fase del nostro processo di digitalizzazione ed efficientamento energetico. Perché? Quindi, siamo partiti da una prima visione che era quella di andare a individuare gli asset critici, connetterli, raccogliere il dato da parte di questi asset critici, misurare quel tipo di dato ed è lì, quindi, in funzione della misura di quel dato, andare poi a, come dire, ottimizzare e agire. Quindi, apriamo il terzo capitolo del nostro processo di efficientamento energetico, quello dell'agisci. L'agisci, effettivamente, come dire, è la parte più operativa, no? Cioè, ossia, il concetto di andare ad ottimizzare ed efficientare quelle che sono le attuali performance in funzione degli asset e delle criticità, criticità e delle anomalie che abbiamo visto in funzione, appunto, in fase di misura, in modo tale anche da prevenire eventuali anche fermi in pianto. Cioè, non dimentichiamoci anche il concetto di continuità, come dire, operativa, che, come dire, se contrastata da un fermo macchina, appare anche oneroso in una logica di, insomma, di redditività e produttività in uno stabilimento. Cosa abbiamo fatto, quindi, in una logica di act, cioè dell'azione vera e propria? Abbiamo, quindi, individuato quelle anomalie di sistema. Lì dove abbiamo, quindi, riscontrato necessario, vedi, per esempio, il caso di una pressa, abbiamo dovuto inserire, effettivamente, dei nuovi macchinari. Quindi, abbiamo lavorato sull'introduzione di alcuni nuovi macchinari e l'abbiamo fatto integrando una nuova pressa, diciamo, chiamiamola, ecco, intelligente, perché è dotata comunque sia di tecnologie abilitanti 4.0, in particolar modo un variatore di velocità con intelligenze integrate, che quindi raccoglie i dati della nostra pressa, ce li trasmette direttamente, appunto, in cloud e da lì ci permette di fare del monitoraggio sulla singola macchina, quindi monitoraggio energetico sulla singola macchina, ma soprattutto di prevenire eventuali, insomma, anomalie. Quindi, ragionando in una logica anche di, come dire, proattività e non più reattività. Lì dove, invece, non era necessario andare, quindi, a integrare un nuovo macchinario, cosa abbiamo fatto? Siamo andati a lavorare, come dire, su quella che era la base installata, cioè, non dimentichiamoci che a volte sia il concetto di, come dire, digitalizzazione uguale investimento importante, no? Cioè, la digitalizzazione è un processo graduale e anche noi stessi, come dire, che ne siamo i principali sponsor, i principali owner. In questo senso, siamo stati un po', anche noi, via via, un po' contemplativi nella fase, quindi, di implementazione. E quindi, anche nella parte di alcune macchine, abbiamo preferito, quindi, non cambiare del tutto il macchinario, ma andare a lavorare su alcune componenti. Quindi, avevamo parlato poco fa di, come dire, raggiungimento di temperature, magari non standard, rispetto ad alcune, alcune parti, appunto, delle nostre, delle nostre presse, quindi, soprattutto, della parte delle camere calde, abbiamo lavorato, poi, su un altro asset delle nostre, delle nostre presse, quindi, la parte di sistema di aspirazione. Immaginatevi che questo tipo di, diciamo, di apparato della pressa lavora sei giorni su sette, H24, raggiungendo consumo, anche, di 16 kilowatt. Al di là del funzionamento attivo della pressa, quindi, al di là che la pressa, in quel momento, stia producendo, questo sistema di aspirazione viene attivato. Noi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo modulato, un po', il suo funzionamento, inserendo una serie di tecnologie, quindi, per esempio, andando a sostituire, a integrare, le cappe metalliche con valvole di regolazione e condotti metallici, in sostituzione di quelli in carta e con terminali in plastica. Abbiamo cambiato i motori elettrici, con alcuni più performanti e, soprattutto, più efficienti, e abbiamo inserito, all'interno, quindi, delle cappe metalliche, anche dei ventilatori centrifugi, con pale curve rovesce. Questo per andare a modulare, quindi, la potenza della nostra, del nostro sistema di aspirazione, in funzione, appunto, del fabbisogno della macchina, quindi, lì dove, effettivamente, la macchina non lavora, andare a modulare la potenza, in modo tale da non creare sovraccarichi, riducendo così, insomma, in qualche modo, anche quello che è il consumo energetico della pressa stessa. Queste sono state le principali aree su cui siamo andati a quei famosi quick win, no? Cioè, l'esito di quel famoso quick win di cui abbiamo parlato poco fa, quindi, sicuramente, lo stampaggio classico era quello più preponderante in termini di consumo, ma abbiamo individuato, abbiamo visto in quella torta anche dei, come dire, servizi supplementari che concorrevano al consumo, quindi tutta la parte, anche, per esempio, di illuminazione, che, seppur impattando per il 10% sul consumo energetico, comunque sia una sua modulazione, una sua, come dire, efficienza, effettivamente ci ha portato poi a questo tipo di risultato, quindi a un risparmio energetico pari al 4%, monetizzato pari a 20.000 euro. Questo perché? Perché effettivamente avevamo visto, soprattutto nella parte, per esempio, di uffici, piuttosto che di magazzino, che potevamo andare, come dire, a, magari, soprattutto sulla parte di magazzino, ecco, quindi le parti di magazzino o carico, per esempio, delle materie prime, che erano delle zone, come dire, poco sorvegliate e presidiate, no? Quindi, in questo senso, potevamo modulare il carico luci attraverso una schedulazione e un programma, quindi attraverso interruttori crepuscolari, temporizzatori, piuttosto che attraverso, appunto, il passaggio delle persone, quindi attraverso, quindi, dei rilevatori di presenza. Questo tipo di, queste diverse fasi, che sono, in realtà, soltanto alcune, vedremo adesso successivamente, quelli sono anche i nostri nuovi propositi, in questo senso, ci hanno permesso, ad oggi, nell'asset temporale di circa sette anni, da quando abbiamo iniziato il nostro processo di efficientamento energetico, con, come dire, la concorrenza delle diverse tecnologie che vedete un po' riassunte sotto, quindi inserimento, per esempio, di variatori di velocità all'interno delle nostre macchine, inserimento di quei famosi strumenti di misura prodotti con essi in termini proprio di distribuzione, che abbiamo, appunto, mostrato poco fa, tutta la parte di sistema di aspirazione, appunto, delle nostre presse, nonché poi tutto il lavoro, quindi, di efficientamento sulle luci, tutte queste, diciamo, tecnologie ci hanno permesso, in sette anni, di ottenere questo risultato, che ci rende, insomma, orgogliosi, che è circa, come dire, valorizzato circa il 30%, e in termini economici ci ha fatto, insomma, risparmiare circa 140 mila euro, quindi, come vedete, nel tempo, un po', il tipo di investimento è stato, come dire, ampliamente ripagato. Però, attenzione, voglio ribadire un po' il concetto di investimento in una logica non di, come dire, concetto da sostituzione, ecco, l'investimento non deve essere visto come un qualcosa di ex novo, un qualcosa che non è preesistente, ma noi, primi fra tutti, cioè, è stato un processo graduale, e soprattutto siamo partiti da quella che era la base installata. Poi, nel tempo, siamo andati a integrare ulteriormente le varie tecnologie che ci potevano fornire, abilitare a un'ulteriore, come dire, focalizzazione, a un ulteriore efficientamento. Ma, come dire, siccome quando si parla di efficienza energetica, questo sicuramente ha un impatto anche in termini, come dire, ambientali, quello che è il saving in termini di CO2 è stato, appunto, un 17%, soprattutto a partire, appunto, tra, a partire dal 2017 fino al 2020, quindi comunque anche questo ci rende, come dire, abbastanza orgogliosi e ci può, insomma, dare il giusto merito di essere una smart factory, quindi non solo efficiente, ma effettivamente anche sostenibile. A questo punto, come vi dicevo, abbiamo definito the next step, perché, come dire, rispetto a quella che era la condizione zero da cui siamo partiti, quindi, nel 2014, dove via via andavamo inserendo una serie di strumenti di misura, da lì abbiamo fatto, quindi una macrofotografia fino a dettagliare sempre di più, zoomare sempre di più quel famoso, insomma, obiettivo di cui vi parlavo poco fa, adesso dobbiamo dettagliare ulteriormente, focalizzarci via via su ulteriori implementazioni. Questo perché? Perché rispetto magari a una condizione zero dove ogni miglioria aveva un impatto in termini di efficientamento energetico importante, adesso, diciamo, rischiamo che se non proponiamo ulteriori, come dire, proposizioni in questo senso, rischiamo di ottenere sempre un livello abbastanza paretario, insomma, di andare in pareggio in questo senso, no? Di non riuscire poi ad andare sempre oltre, di raggiungere sempre quell'obiettivo, insomma, che ci proponiamo, no? E quindi da qui già abbiamo definito dei prossimi step, in particolar modo sullo stabilimento di media tensione, dove ad oggi la fotografia che vi avevo mostrato poco fa è questa, cioè, come dire, gestione e controllo dei dati soltanto per aree, quindi tre aree nello specifico, domani andremo a replicare quello che abbiamo fatto per il dipartimento di bassa tensione, quindi andare a monitorare e collegare le singole, i singoli condotti sbarre delle singole linee produttive, ok? Nonché tutta la parte anche di illuminazione. Sullo stabilimento invece di bassa tensione, dove eravamo da questo punto di vista un po' più avanti, perché essendo stato, come dire, il primo asset su cui siamo andati a focalizzare i nostri effort, andremo invece a dettagliare ulteriormente il nostro monitoraggio, facendolo come? Quindi dalla gestione e dal monitoraggio della singola linea produttiva andremo alla gestione e al monitoraggio di ciascuna macchina, in modo tale da andare a individuare quindi quelli che sono i dati energetici di consumo energetico di ciascuna macchina, ma addirittura avere il dettaglio dei componenti, ecco, di ogni macchina all'interno, insomma, che andremo a monitorare. In questo senso, prevenendo sicuramente anche, come dire, sovraccarichi della macchina, eventuali anomalie e soprattutto riuscendo anche a fare, attraverso anche una logica di predizione della manutenzione preventiva lì dove, insomma, è necessaria, andando anche a beneficiare in termini di redditività, perché comunque sia, si andrebbe a fare della manutenzione soltanto lì dove ce n'è bisogno, ecco, non perché comunque sia magari il costruttore della macchina lo prestabilisce. Tornando quindi a questa fotografia che avete visto poco fa, abbiamo un po' raccontato quindi la nostra efficienza energetica sulla parte di bassa tensione, sulla parte di medietensione andremo a replicare un po' lo stesso modello e vedremo, insomma, avremo modo di raccontarvi sicuramente in un'altra occasione anche gli esiti di questo ulteriore, insomma, efficientamento, ma soprattutto quello che vorrei condividervi con voi è anche un po' la logica che sta dietro rispetto a questo tipo di, diciamo, di processo che abbiamo iniziato. Il nostro concetto è quello di rendere appunto la, come dire, la digitalizzazione come un concetto che non venga più letto, ecco, come un trend, no? Come un qualcosa di momentaneo. In realtà è abbastanza presente. Quindi il fatto di raccontarlo come l'abbiamo applicato noi nei diversi step sicuramente lo avvicina magari un pochino di più, vedendolo un po' in maniera anche un po' più esperienziale. E il concetto dell'esperienza è un po' quello che replichiamo anche nel momento in cui accogliamo un po' i nostri clienti quando ci fanno visita nei nostri stabilimenti, dove facciamo vedere l'applicazione delle nostre tecnologie e soprattutto facciamo toccare un po' con mano tutte quelle che sono, diciamo, le soluzioni ecostructure che è appunto la nostra piattaforma digitale. E lo facciamo andandole un po', facendogli vivere questo tipo di esperienza, toccando non solo quindi quello che abbiamo visto oggi, la parte di efficientamento energetico, ma la copertura della piattaforma su ogni tipo di applicazione. Quindi partendo dalla distribuzione energetica, sino alla parte ovviamente di macchine e processi, per arrivare poi anche alla gestione, per esempio, di un edificio intelligente. Questo facciamo attraverso quindi quella che è l'esperienza, che noi chiamiamo EcoStructure Experience, nel nostro polo di innovazione. Ti apro le porte del nostro polo innovazione. Come dire, quello che il messaggio che vogliamo un po' trasmettervi poi, insomma, io e Giorgia, di cui vi condivido qui i contatti, se volete, insomma, venirti a trovare, anche per vedere un po' vivere l'esperienza EcoStructure dal vivo, è sicuramente questo, cioè partire in piccolo, pensare in grande, con a fianco un esperto nell'interpretare il dato, analizzarlo e riuscire a stabilire una strategia per la sostenibilità e l'efficienza. Quindi noi, in Sonadere Electric, ci poniamo come il partner, appunto, digitale, per accompagnare i nostri clienti, i nostri partner, in quello che è la loro trasformazione, la loro strategia di efficientamento. Ovviamente non basta, come dire, come abbiamo fatto la parte di connettività, la parte di gestione, monitoraggio e misura e di analisi, ma, come dire, non basta avere il dato. Bisogna anche, come ha detto Giorgia poco fa, renderlo intellegibile e soprattutto sfruttarne, appunto, le potenzialità per riuscire a mirare il nostro obiettivo di efficienza e di sostenibilità. E in questo siamo, come dire, i partner di Giorgia, di Giorgia, di Giorgia, di Giorgia, di Giorgia, per i nostri clienti, per riuscire a cambiare e a fare la loro di trasformazione digitale. Grazie. Io ho concluso. Non so se ci sono anche domande. Grazie, grazie Enè. Adesso le prendiamo. Ti chiedo solo di accendere la webcam perché te l'abbiamo spenta, perché per un attimo c'era stato qualche problema di connessione, quindi abbiamo preferito per poter procedere al video. Quindi se riaccendi la webcam ti vediamo anche. Allora, sì, ci sono delle domande. Allora, le soluzioni presentate durante il webinar, in quali altri settori si possono applicare? Allora, rispondo io se vuoi, Enèo, vai tu. Vai tu, dai, vai tu. Così magari ti faccio ripostare un po', dai. Allora, sì, sicuramente un po' come vi avevamo fatto vedere prima, in realtà, queste soluzioni, la nostra forza è che possono essere utilizzate in qualsiasi settore. Sì, manifatturiero, ma non solo. Ad esempio, abbiamo importanti applicazioni anche nel mondo degli edifici, nel mondo dei data center. È ovvio che, guardando un po' le PMI italiane oggi, sono quelle che ne possono trarre più vantaggio. Sì, non abbiamo nessun limite particolare di applicazione o di settore. Nel senso, dateci dei casi e proviamo a risolverli. Quindi non c'è distinzione grande azienda, piccole, medie aziende, si può, una soluzione che può essere trovata. Anzi, è una cosa che ci teniamo a sottolineare, che in realtà, tutte queste tecnologie, appunto, come diceva Eneprima, ormai sono così attuali, che non sono un'esclusività delle grandi. In realtà, con dei piccoli step, come vi abbiamo fatto vedere noi nella nostra fabbrica, partire da qualcosa di piccolo, anche banalmente appunto la sostituzione delle luci, che è la prima cosa a cui si pensa, può già dare dei grandi risultati. Quindi, anche alla piccola azienda, basta solo individuare bene cosa si vuole ottenere e fare degli esperimenti, che è molto semplice, e poi da lì si può scalare e ampliare la soluzione. E a livello di tempistiche, quanto tempo è necessario per questo tipo di interventi? E quando si iniziano a vedere dei risultati? Allora, sicuramente, come ha detto Giorgia, la soluzione è completamente customizzabile in funzione di quello che è la richiesta e l'applicazione del cliente. Quindi, le tempistiche, ovviamente, in termini di implementazione, in realtà, non sono così lunghe. Cioè, nel senso che, una volta che si ha anche una base predisposta di prodotti connessi, perché, ricordiamoci, che comunque la nostra soluzione, cioè i livelli superiori, quindi quelli di gestione e monitoraggio, e il terzo livello, quindi quello delle app, di analytics, possono essere, come dire, ancorate anche su una base già installata. Quindi, in termini di implementazione tempistica, possiamo anche parlare, per dire, di un mese, per esempio. Però, quello che è il ritorno, ovviamente, diciamo, un minimo deve esserci un termine di, un intervallo di tempo, ecco. Potrebbe essere un minimo di almeno un anno, due anni, per cominciare a verificare eventuali, come dire, primi efficientamenti. Cos'è necessario per avere questi dati e come li organizzo? Come vengono prese le decisioni? Allora, il dato, come un po' vi ho raccontato io nella nostra, nella nostra, diciamo, presentazione, cioè, l'elemento fondante è quello di predisporre la tecnologia. Quindi, appunto, attraverso, nel caso, quindi, della nostra, della distribuzione elettrica, è quello di dotare i nostri, insomma, quadri di distribuzione, quindi finale o i quadri di media, attraverso, appunto, questi prodotti connessi, che sono, sostanzialmente, questi sensori di monitoraggio, appunto, PowerTag, che vengono messi o a monte o a valle dei nostri interruttori modulari, fino ad arrivare, poi, a cariche, ovviamente, più importanti, dove l'aspetto di intelligenza, quindi, diciamo, la parte connessa è già integrata. Quindi, diciamo, il nostro obiettivo è quello di costruire, via via, prodotti sempre già nativamente connessi. Lì dove la base installata del cliente, per esempio, non ha questo tipo di tecnologia di predisposta, si può andare a lavorare in una logica, diciamo, chiamiamola di retrofit, andando, quindi, a introdurre questo tipo di sensoristica che raccoglie il dato. Il dato, però, come dire, deve essere trasmesso, quindi ci viene poi restituito a livello superiore, che è, appunto, il nostro software di gestione, di monitoraggio, che nel caso specifico della nostra fabbrica è il Power Monitoring Expert, e da lì, poi, il dato che ci viene trasmesso, che sono banalmente quei cruscotti, no? Quelle torte, quei grafici che vi facevo vedere poco fa, sono, come dire, le informazioni utili, attraverso cui noi, poi, come dire, operiamo la nostra analisi, guidati, appunto, dai nostri esperti, nel caso dei nostri clienti, noi, in qualità di service, e andiamo, poi, a, come dire, aiutarli a fare una serie di analisi, di migliorie, piuttosto che partire da un primo step di audit energetico sulla loro base installata. Perfetto, e le soluzioni mostrate possono rientrare nel piano transizione 4.0? Assolutamente sì, e magari, Giorgia, questo se tu vuoi fare un ulteriore focus. Sì, allora, nel piano 4.0 possono rientrare diverse cose, sicuramente è un piano che nasce apprettamente per il mondo industriale, quindi cerca di portare questa trasformazione digitale alle imprese che effettivamente producono. È ovvio che per produrre è necessario avere una fonte energetica, in questo caso elettrica, quindi anche quello che è l'aspetto energetico può essere anche questo incentivabile. È ovvio che va tutto un attimino pesato e considerato puntualmente, perché non tutto può essere incentivabile. Nella stragrande maggioranza dei casi sì, però è ovvio che affidarsi a un partner, come in questo caso Snyder, che abbiamo già fatto applicazioni di questo tipo, può velocizzare quello che è il processo di raggiungimento degli incentivi. Siamo in grado anche di fornirvi delle collaborazioni con dei consulenti che poi si occupano di fare le certificazioni appunto delle avvenute interconnessioni. Diciamo che avere un partner con le spalle grosse, passatevi in termini come noi, vi permette di essere sicuri che l'architettura può essere incentivata e di velocizzare anche tutta la procedura, perché abbiamo già fatto casi di questo tipo, quindi sappiamo cosa può essere fatto, cosa no e cosa può essere migliorato. Però nella maggior parte dei casi gli interventi di efficienza energetica e sostenibilità rientrano, perché appunto è il motivo trainante per cui nasce Industria 4.0. Perfetto, grazie. Non ci sono in questo momento altre domande, ma qualora dovessero arrivare sarà ovviamente mia cura condividerle con le nostre relatrici. Non mi resta che ringraziare dunque Ene e Giorgia per questa preziosa testimonianza. Grazie, grazie a voi dell'opportunità. Scusate, insomma, il dettaglio anche tecnico iniziale che è sfuggito. Nessun problema, nessun problema, sono cose normalissime. Bene, grazie ovviamente anche a Schneider di essere main sponsor di questa ottava edizione di Energy Week. L'appuntamento è domani per l'ultimo giorno di questa settimana che abbiamo vissuto così intensa e così ricca di appuntamenti e lo sarà anche domani, quando avremo in programma ben tre webinar. L'appuntamento per domattina è un orario diverso rispetto alle altre giornate. Inizieremo infatti alle ore dieci con Michele Santovito, presidente di AssoEge, che ci porrà una relazione dal titolo l'evoluzione del legge in vista della prossima transizione energetica. Grazie per essere stati con noi anche in questo giovedì. Vi ricordo che questa non è una settimana come le altre, ma è Energy Week.